Ciao affamato, non sapevo che lavorassi anche in un pub. Mi fai un birrozzo? Ciao dottore dei computer. Hai visto? Il mio medico della mutua mi ha detto di stare lontano dal cibo e allora per allontanarmi mi sono avvicinato al bere. Bravo affamato, sei molto furbo. Per dimenticare tutti i virus che ci sono su internet, ti chiedo se mi puoi preparare 27 spritz. Prima di prepararteli volevo dirti che ieri sera prima di iniziare a mangiare dei pesci presenti in un fosso, volevo farti una domanda. Bravo affamato che cerchi gli omega 3 dentro i fossi. Dimmi pure. Volevo chiederti se sono vere alcune cose su Facebook. Ad esempio circolano delle istruzioni per scoprire quali sono le persone che più visitano il proprio profilo Facebook. È una colossale bufala. O balla, come preferisci. Leggo che Facebook prossimamente sarà a pagamento. Facebook garantisce che non sarà mai a pagamento. Cancella le catene la prossima settimana diventa a pagamento Facebook, però se invii questo messaggio a 4 zie e 12 amici castani. È possibile avere funzionalità per monitorare chi guarda il nostro diario su Facebook? Affammato non è possibile avere una funzionalità per monitorare chi visualizza il proprio diario. Quindi quando visualizzi il diario di una persona, lei non lo potrà sapere. Grande dottore, mi hai già dato alcuni consigli molto interessanti. Ti consiglio di visitare il link sotto questo video, riporta ad un mio articolo su www.ildottoredeicomputer.com per scoprire altre bufale su Facebook. Grazie dottore. Per maggiori dettagli e informazioni, ti consiglio di visitare www.ildottoredeicomputer.com. Un saluto a chi ci sta guardando con il computer o cellulare. Ciao. Ora che saluto dottore che devo collegarmi su Facebook, una persona ha detto che se condivido una sua immagine vinco un iPhone 13. Sì. Grazie. Grazie.